benvenuti in questa guida top 7 caffè in grani di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo pellini espresso bar caffeine un caffè dal gusto intenso e cremoso ideale per una pausa di relax il pellini espresso bar caffè in grani n 9 cremoso è un prodotto di qualità con un aroma intenso e persistente la confezione da un chilogrammo è pratica e comoda da conservare ottimo per una tazzina di caffè al mattino punteggio 78 punti info in sesta posizione al sesto posto troviamo lavazza caffè in grani per un caffè di qualità eccellente il lavazza caffè in grani per macchina espresso qualità oro è una miscela di caffè pregiato con un aroma intenso e un sapore ricco la tostatura leggera rende questo caffè un'esperienza di gusto unica ideale per la macchina espresso punteggio 84 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo 3 kg caffè in grani ottimo caffè in grani di qualità superiore il gusto è intenso e ricco con una nota di nocciola e una leggera acidità ottimo per la moca o la macchina da caffè consigliato punteggio 85 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare pellini caffè in grani pellini un caffè dal gusto intenso e deciso con un aroma ricco e persistente una miscela di grani di alta qualità che regala un espresso cremoso e corposo ottimo per una pausa di piacere punteggio 83 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo lavazza modo mio caffè ottimo caffè in grani dal gusto intenso e persistente la confezione da un chilogrammo è pratica e comoda da conservare ideale per chi ama un caffè forte e deciso ottimo rapporto qualità prezzo punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo borbone caffè in grani 2 questo caffè in grani è una miscela di qualità eccellente il sapore è ricco e intenso con note di cioccolato e nocciole la tostatura è perfetta con un aroma intenso che dura a lungo ottimo per la macchina del caffè automatica un ottimo caffè per tutti i giorni punteggio 96 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica caffè corsini in grani espresso caffè corsini è una miscela di chicchi di caffè dal gusto intenso e cremoso la selezione di chicchi di caffè è di alta qualità con un aroma ricco e persistente ideale per la preparazione di espresso cappuccino e latte macchiato un prodotto eccellente punteggio 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale